122 dollari, questo è tutto quello che ci resta, questa è la nostra casetta Feria, quest'oggi dobbiamo lavorare bene, io te lo dico Sì, Steph! Dobbiamo fare un ottimo lavoro Io, dal tipo dove si taglia la legna, non ci torno più Perché, secondo me, mi vergogno, francamente l'abbiamo abbandonato lì Siamo andati a farci i cavoli nostri, a costruire una casa L'abbiamo mollato là nel mezzo del bisogno del lavoro Probabilmente ci sta ancora aspettando, sto ancora aspettando la nostra legna, Steph Quindi, io da lui non ci torno, te lo dico sincero, sincero Quindi direi di andare a cercare direttamente un altro lavoro Ok Sei d'accordo com'è? Certo, Steph Mi è venuto in mente Sono un po' stanca, scusa Vabbè, ho capito, però abbiamo prevenziato Dopo aver guardato la tv, anzi, nel bel mezzo di un programma televisivo L'ho dovuta spegnere, sai com'è le bollette qua, Steph? Beh, direi, anche perché tutta sta luce è già troppo Infatti abbiamo lasciato un angolo buio, perché così almeno risparmiamo un po' Per riflettere sulle nostre malefatte Esatto E sul fatto che il palegname ci sta ancora aspettando, Steph E dicevo, io direi, dato che tu avevi un po' di esperienza come cassiera Di approfittarne per provare ad andare lì Magari va un pochettino meglio Ce la caviamo Fede, ma dimmi te, devi farti la doccia Qua non ci sono neanche i muri, è la privacy Sono svegliata, anzi, mi sono svegliata Ho guardato la tv, ho fatto un altro pisolino Sto facendo la doccia Bisavano anche i denti lì perché non abbiamo Sì, lavandino, certo Un tutto, un lavaggio completo Vabbè, e quindi, dicevo Andiamocene a lavorare lì Vediamo un pochettino come va Sto morendo di fame, ma dobbiamo far finta di nulla Non c'è altro modo Quindi, go to work E abbiamo detto, cassiere Ok, che è questo qua? Che poi, non so perché, mi conta ancora Il lavoro del taglialegna che ci sta ancora aspettando E poi quello della pizza Perché siamo entrati per sbaglio Cioè, per sbaglio, quindi ci ha contato il lavoro Sì Cavolo, Steph, è un disastro Ma può avere anche più di un lavoro, scusami? Non ho idea Cioè, se c'era la lista, evidentemente Non voglio neanche saperlo, francamente Già ci stanno conoscendo in troppi posti in modo negativo e non in positivo Siamo a avere più di un lavoro Possiamo, capito Lavorare come se non ci fosse un domani E fare un sacco di soldi Tipo quattro lavori tutti insieme, Steph Sì, sì, sì Non è reggi uno Ok, allora Quindi io vado qua Ho fame, però La colazione, Steph E fare, ci pensiamo Io sto già lavorando Allora Cioè, penso Come funziona? Allora No, ho sbagliato il lavoro Devo andare via No, non chiedetevi ordini Ma non era cassiera? Eh Cavolo, ho fatto cassiera e mi ritrovo al Bloxy Burger Raga Vabbè, visto che ci sono, mangio però, scusate Come funziona sta roba? Order food Hamburger Bello Un bella burger a colazione Mi sembra molto, molto buono Bene Che c'è? Che problemi c'è? Mi sta andando per licenziare Dai, Steph Comportati bene Te lo giuro Ah Per riprendere gli oggetti E metterli nella busta E quando la busta è piena Fare un'altra busta Certo Ok Ho fatto, Steph Perfetto Allora Io vi so che c'ero, Steph Ho fatto colazione senza di te Ok Allora, quindi Work Dove devo andare? Bene Non sono fatto per questo lavoro Te lo giuro Te lo giuro Sto sbagliando costantemente tutto Ah, c'è anche il cassiere al Blocksburg Fresh Fresh food Ah, ci sono dei lavori diversi Due cassieri Io sono andata all'altro, capito? Adesso anche quelli ce l'hanno come Vogliono roba, Steph Ok Allora, il problema Praticamente Eccoci qua, Steph È che sto sbagliando sempre tutto Con questo sistema delle buste E tipo uno ho venduto dieci buste Quando gli ambassavano tre Ok Quindi non sto facendo un ottimo lavoro Secondo me Ma Steph, è facilissimo sto lavoro Guarda A me aggiunge le buste Anche se io sto mirando qua Ma come? Vedi, guarda Guarda che casino ho fatto Don Eh, guarda Guarda da me Come è possibile? Non lo so Ma Steph, non si fa nulla allora Proviamo così in prima persona Magari va meglio Ok 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 Dai, piano piano diventerò un bravo cassiere Guarda A me dicono Eccellente Sei bravissimo Io gli faccio grazie Meno male Meno male Meno male Meno male Però io affurdo Ma è che uno di due qua lavora E finalmente potremmo permetterci una casa decente Adesso vediamo quando ti pagano Cara Subito Poi ne riparliamo Chi è con la moto? You are out of bags Get more in the Oh, scusi Ah, ma finiscono pure le buste E dove devo andare? Di qui? Cioè non mi dire che finiscono le buste No, aspetta, aspetta Che succede? Ah, ok, ok Trovate C'è una scatola poco prima Sto facendo un casino Cavolo, non sapevo finissero Nien che io Scusi Quando io lavoravo tanti anni fa, Steph In questo posto Le buste erano infinite Te le davano proprio Sono stato promosso Oh, bravo È perché ho portato le buste Hanno fatto Eh, se porta anche le buste È proprio bravo a fare il suo lavoro Vieni valutato così in questo posto Cioè io inizio ad essere un po' stanco Francamente Qua ho fatto una sessione di lavoro Davvero faticosa Sei d'accordo? Steph, hai lavorato 5 minuti No, adesso voglio capire Quanto mi vogliamo pagare Per tutto questo lavoro Guarda, Steph, visto che sei stanco 260 Con 260 non mi compro neanche una finestra Per la casa Ho comprato una mela, Steph Così poi nel frigo che non abbiamo La ritroverai e la potrei mangiare Sei felice? Davvero? Sì Ma non abbiamo il frigo? Appunto, ho detto Nel frigo che non abbiamo È un problema, cara E sarai felice Beh, oggi stai lavorando per comprare un frigo Mio caro Steph Ah sì? Non lo sapevo Sì, certo È per comprare anche un divano Possibilmente Ok Della luce che illumini come si deve Ok E tutte queste belle cose Sono stato promosso di nuovo Cioè secondo me Stanno apprezzando molto il mio lavoro Scusatemi Secondo me Dove sono le mie promozioni? Se sei quello di Fere Mi stanno apprezzando un sacco Ah, perché io sono a livello alto, Steph Siccome sono una persona che ha già esperienza alla casa E sono già un otto Un otto? Tu non sei un livello otto, capito? No, per niente Io sono un livello tre, mi pare Eh, appunto È per quello che io Che ti piacciono bei soldoni, tu, no? Cioè, ti pagano di più? Eh, suppongo di sì Per ora 146 Se metto aumenta il guadagno Fai schifo Cosa dovrei fare aumenta il guadagno? Fai schifo, per Devo pagare dei Robux Per guadagnare di più Cioè, io ho fatto 352 E che ti devo dire, Steph? Forse ai livelli bassi, sì Basta Si guadagna bene Steph, non puoi mollare anche sto lavoro Guarda che non sono infiniti i lavori in città Di fatto me l'ho pagato It's a new day Devi andare al lavoro Non ci va dal lavoro Datemi i soldi Grazie E vado a mangiare Ho fame Tu di fatto sei andata a fare colazione Io ho guadagnato 400 Molto di più di te Perché io così poco? Scusi No, scusi Scusi Scusi, una pizza Me l'ha dato Finisco il mio lavoro qua Scusi Ho fame Ok, mi hanno pagato 163 E mi sto anche annoiando a scoppio, raga Lo sapevo Lo sapevo Allora, sì Pizza Dove sei finito? Mi sto mangiando Dove? Sto mangiando pizze Ok Un'altra, un'altra Sì È stato noioso lavorare Quindi voglio due pizze Ok A posto Ok, fatto Tutto ok, Fer? Quindi adesso che si fa? Adesso torniamo al lavoro No? Cioè mi hai appena fatto chiudere il mio La mia cassa Io non te l'avevo detto di farlo Ho cliccato end shift, Steph Quindi ho finito il mio turno io Ah, quindi non puoi tornare? Devo tornare È pieno di clienti che aspettano comunque No, non posso tornare Ah, eh sì Penso che se appena entri ti mettono la divisa Ma non ho capito Ti stessero col cappi al collo qui dentro Salve Vi muovete voi? Allora Questi non si muovono, Steph Aspetta Aspetta Faccio la tua cassa, va? Ok, ti rubo il lavoro In questa cassa ho capito che si guadagna meglio Ma non è vero Quindi Ferre Rubiamo il lavoro a Steph Sono diventato un cliente, guardami Ma quello è scappato Non ho pagato, Steph T'hanno scappato tutti No, è maledetta questa cassa Cioè aiuto Le vissi Che quello io non avevo Oh, faccio la fila Non avevo ancora cliccato donne ed è scappato, Steph Ferre Cioè mi bypassano Non vogliono fare la fila Mi ha rubato tutta la spesa Oh, sono stata promossa a livello 10, credo Salve O 11, non lo so Io ho della spesa Salve No, no, mi scusi Tu non hai niente Sì, sì Ho ordinato tre latine di Coca-Cola Non c'è niente da te Oh, è quella Mi dia Non è tua questa roba, Steph Guarda Ci sono anche le borse finite Per la tua spesa invisibile Ci stanno per licenziare malamente Ma guarda che sei tu il problema Io sto sempre lavorando bene Dai, sto aspettando la spesa Ok Vedi che non l'hai fatto Guarda, grazie Vedi siamo in tutt'uno Ciao No, non l'hai presa tu, Steph Arrivederci Torna a lavorare che abbiamo bisogno di soldi Non fare il pigro, dai Allora, quanto Ho fai Ho 487 Io torno a casa Eh, non ci compri nulla con 487 Go to house Ok Il frigo secondo me mi riesce Ora è che la promozione Quanto guadagno? Molto poco secondo me Nell'altro lo vedi Nell'altro Work? No, non è questo Devi premere work No, no, pre L'altro Quale? Terzo click work Ecco Eh, brava Quanto? 73 53 Ma questa raga è povera Cioè A me hanno, secondo me è licenziata Ma a lei la fanno lavorare proprio grazie Ah no, perché Avevo finito Meglio liberi Adesso sono di nuovo a livello 1, Steph Non lo so cosa sta succedendo Cosa mi sta succedendo? A livello 1 Non lo so A livello 2 Ma non è Fere, ho capito Che cosa? Sei un imbecilla E patentata Che cosa? Fatelo dire Tu avevi 10 Nella casa del ristorante Non nella casa del market No, era questo il lavoro No, Fere Fere, è chiaro come sole No, Steph Io ho sempre lavorato qui Non ho mai lavorato Fere, lavoravamo le patatine insieme Tutto il giorno Non è vero Facevamo a gara Chi dava più ordini di patatine E compagni Lo facevamo sempre Ti stai inventando vite Che non esistono, Steph Va bene È pazzo, eh Sì, sì, sì Ecco perché lo licenziano Perché chiaramente è pazzo Mi hanno... Non sono stato licenziato Ho scelto di andarmene No, Steph È diverso Poi c'è anche da dire Che non c'è mai il capo In questi posti Avevo fame Vabbè, inventario Vabbè, me ne vado Basta Cosa possiamo comprare? Cosa possiamo comprare? Stai compilando Che sei zitto? Apprezzerei di sicuro Dai, Steph Che stai facendo? Nulla, non puoi parlare Allora, decorate Dai, Steph Smetti la Kitchen Vediamo se c'è il frigorifero Vediamo se Ferry aveva ragione E se c'è la mela dentro? E se c'è la mela dentro? Io la voglio, eh Me l'hai promessa Oh, l'ho comprata L'ho pure pagata Icebox fridge Mi mancano 13 dollari Ce li ho io Ok, che ho guadagnato poco Ma ce li hai Tu sei lontano, Steph Dove sei? È lì giù E io sono a casa Ma non mi posso te trasportare da te? No, ti servirebbe un'auto Ma sei povera Ci sono chiamato di rubarla Aspetta Ok Ok, allora basta aspettare Ferry Apriremo anche il nostro frigorifero Quindi step in avanti Comunque per la casa Ma soprattutto Bellina questa casa Complimenti Copiamola, Steph Anzi, rubiamola Cerca di scassinare, Steph Puoi fare il ladro di professione Forza Lo so Ha fatto un errore Pensavo fosse una porta aperta Una porta aperta E non una porta sbagliata E basta Questo era un bait per i ladri Io devo dire una cosa Sì, dimmi, cara Questa città è molto strana Beh, ci hanno accettato I lavori sono strani Le persone sono strane Parlano quelli che lavorano 5 minuti E poi sono stanchi ogni volta Quindi è un posto che non mi piace Io te lo dico Ok, allora E, oh cavolo C'ho il fan al 6% Però Non è un problema Steph Guarda che è appena arrivato È arrivato un villone, raga Cioè, ma Non riesce a caricarlo il gioco Da quanto è grande, Steph Funziona? Sì, perfetto Non vieni a vederlo? No, per No, ma è proprio uno di quei villoni Ma tu stai arrivando da me? Sì Ok È lì vicino il villone Perché sai, ho creato la zona soggiorno Te lo farò vedere Dalla mia inquadratura Puoi un po' intuire Ma non abbastanza Quindi per ora No, non guardo Preferisco di nostra Allora, sosteggio un po' di tè Al limone Che fa schifo Tu l'hai comprato Tu te lo bevi Ho provato a comprare Ho provato a comprare un tel limone Di quelli da fare Solo che O abbiamo sbagliato a farlo Ed è probabile Contando che non sappiamo fare Nenche toast Oppure Fa schifo questa marca Fatto sta che fa un po' schifo Però ce lo stiamo bevendo Perché a me lo dobbiamo finire La nostra casa non ha neanche le pareti E neanche le E stai lasciando anche la porta aperta Vieni, vieni, vieni Guarda che bello Abbiamo una poltrona Steph, è una panca da campeggio Sta roba Ce l'hanno data gratis Non so perché Non sei contenta anche tu? Non apprezza mai nulla Cioè è povera E non apprezza mai nulla Mi faccia una bella doccia Ti ho appena dato i soldi Steph Ti ho dato 100 dollari Ah, che bella la vita Dammi tutti i soldi 100 dollari No, no, no Voglio la metà dell'affitto No Ascolta Io vado a vivere nel villone Ciao E chi ti vuole Non ti prendono tanto Ci scomenti che se gli chiedo Mi dai permessi Mi accoglie in casa sua Almeno farò la vita da ricca Non da povera con te Non rovinare tutto Ok Noi ci stiamo per Spendi staccidenti di tv Gne 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 Ci stiamo per comprare un frigorifero Quindi Non rovinare il momento Decorate Guarda Questo è un momento importante Della nostra vita Frigorifero Vicino al letto Così rinfresca un po' Perfetto Non abbiamo l'aria condizionata Adesso È il momento della verità Ci sarà la mela Per essere in building mode anche tu Togliti Ma non volevo mettermi in building mode E le vanno a vedere se c'è la mela Attenzione Ok Che roba Ma erano compresi Eh può essere La mela c'è Sì Eh a posto Io mi sono preso un po' Che patatine Andiamo a vedere sto villone al volo va Fammi vedere che Oh cavolo È quello in fondo Che ancora non ti sta caricando bene No Ma guarda che è solo a te Che non carica le cose Mi carica Io c'è Vedo già tutto E Fede vede quadratoni Fede cialpici da povera Fede cialpici da povera E tu hai la casa da povero Non sai lavorare E fai schifo Di fatto ti hanno pagato meno che me A me avranno licenziato Ma a te pagano poco A te sfruttano Guarda questa è una vera casa Ma il tipo scintilla o puzza? No puzza Puzza Ha speso tutti i soldi per la casa Non si lava più Capito? Sai perché? Perché non riesci a raggiungere il bagno Da quanto è grande la casa Assolutamente Salve Hai una signorina Ci fa entrare Oddio Ah sta costruendo Signorina Lei non è messa molto bene Però faccio Mamma mia Non sta benissimo Non sta benissimo Vabbè Complimenti per la casa Ah no Mi sembrava una gamba da pirata Invece una gamba da scheletro Pensavo fosse una tua apparenza No ti ho detto Non sta molto bene la signorina Forse è venuta l'anima diavolo Per la casa In decomposizione Stef Per quello ha la gamba così Mangerò queste patatine in suo onore In ogni caso Ci fermiamo così per questo video Qualcuno mi accolga Vi prego Abbiamo ottenuto un frigorifero Portatemi via La casa è sempre più bella Quindi comunque le cose stanno andando benone Secondo me siamo molto soddisfatti Di nuovo abbiamo perso il lavoro Mettila Non faremo mai più l'episodio di sto schifo Stef È uno schifo Io So già che lavoro farò Ok Era il mio destino Io devo andare a pulire le strade Vedrai che qua non mi licenzieranno Lo so già Fere ne sono sicuro al 100% In ogni caso Qua sotto comprenderanno altri video Iscriviti al canale Cliccate la campanellina Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao